Kenia, un luogo unico e ricco di suggestione. Lunghe strisce di sabbia bianca, lambite da acque cristalline e protette dalla barriera corallina, fanno da contrasto ad uno spettacolare entroterra, densamente popolato da fauna come nessun altro posto al mondo. Vicenissimo al centro di Batamu, piccolo paese non lontano da Malindi, situato nella magnifica area marina protetta della zona di Giacaranda, l'Eden Village Batamu Beach sorge direttamente sulla spiaggia in una posizione incantevole, immerso in un ambiente naturale incontaminato, di fronte ad una intatta barriera corallina e circondato da un giardino di bougainville multicolore. Durante la bassa marea si creano piccoli atolli di sabbia candida che si possono raggiungere con una passeggiata, offrendo alla vista uno spettacolo eccezionale. La meraviglia del paesaggio e l'atmosfera accogliente e informale del villaggio rendono il luogo perfetto per chi desidera rilassarsi e vivere una vacanza a stretto contatto con la natura. Tutti i percorsi interni al villaggio sono in sabbia per consentire agli ospiti di camminare a piedi nudi durante tutto il loro soggiorno. La struttura dispone di 42 camere tropicali, 20 camere Crocodile Lion più vicine al mare, 8 suite direttamente sul mare. Tutte le camere, arredate in stile locale, dispongono di servizi privati con doccia, letto con zanzariera, ventilatore, aria condizionata, cassetta di sicurezza. Per gli amanti della cucina, il villaggio dispone di un ristorante principale vicino alla spiaggia con servizio buffet, con piatti di cucina italiana e internazionale. Ristorante alla cartella terrazza con specialità di pesce e crostacei affacciato sull'oceano indiano. Snack bar vicino alla spiaggia. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e convivialità. Per il relax e il divertimento, piscina, spiaggia attrezzata con vettini, telimare su richiesta con deposito cauzionale, beach volley, tennis volley, ping pong, biliardo, freccette, bocce. A pagamento, centro benessere e spa, adiacente alla struttura. Canoe, noleggio bici, centro diving nelle vicinanze campo da golf e maneggio per passeggiate a cavallo a Malindi. Naturalmente non poteva mancare l'animazione Eden. Lo staff Eden Viaggi propone programmi di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi, spettacoli e intrattenimenti serali. I più piccoli, 4 o 12 anni, potranno partecipare al miniclub a orari prestabiliti. Eden Viaggi offre un pacchetto a regime di all inclusive che prevede un cocktail di benvenuto, colazione, pranzo e cena buffè con specialità italiane, bevande e pasti, caffè americano, soft drinks in bicchiere disponibili dalle 10 alle 23 presso il bar principale. Ed Eden Viaggi augura a tutti un'ottima permanenza. Grazie mille.